La libera iniziativa di Dio richiede la libera risposta dell'uomo. Dio, donando la libertà all'uomo, lo mette in condizione di scelte consapevole. Se vuoi, osserva i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Dalla lettera ai Romani possiamo ricavare gli effetti della grazia santificante che ci fa partecipe della natura divina. E voi, la lettera ai Romani, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiave per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, padre, caro padre. Siamo figli adottivi. La nostra adozione a figli si realizza in modo meraviglioso. L'adozione umana o legale conferisce i diritti dei figli. Non infondi il sangue della famiglia e non opera nella natura e nella personalità nessuna mutazione intrinseca. Invece Dio, adottandosi come figli, ci dona la grazia santificante mediante la quale partecipano alla vita divina, quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Siamo veri eredi di Dio. Nelle relazioni umane i figli non eritano se non quanto muore il padre e quanto. Maggiore è il numero di figli e tantomeno è la parte di eredità. Tale situazione non si verifica con Dio che non muore e l'eredità non soffre difficoltà. Difatti, è Dio stesso la nostra eredità eterna di figli di Dio. I salvati riceveranno tutto ciò che costituisce la felicità stessa di Dio, la sua gloria, il suo amore, la sua regalità. Di fatti, solo Dio può appagare le aspirazioni dell'animo umano. Siamo fratelli e coeredi di Cristo. Cristo Gesù vuole farsi il nostro fratello, secondo l'umanità, per farci diventare i suoi fratelli secondo la divinità. San Paolo afferma che Dio ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del filo suo, perché egli sia il primo genito fra molti fratelli. Dio Padre in Cristo ci ama come ama Lui e ci fa partecipare alla sua eredità, coeredi di Cristo. Dio ci ha modellati su Cristo. Noi siamo con Lui i figli di uno stesso Padre che è nei cieli. Come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Bello, San Giovanni evangelista. Giusti e graditi a Dio, mediando la grazia, l'uomo viene elevato ad un piano che non supera solo la natura umana, ma anche la natura angelica. Possiamo dire che fa parte della famiglia di Dio, incomincia a vivere il divino, cioè una partecipazione alla giustizia e alla santità divina. Da ciò scaturisce che i doni mistici, la bilocazione, le stimole, il profumo, eccetera, sono minima cosa di fronte al dono della comunione alla vita di Dio. Voi siete di Cristo e Cristo è Dio. Nel battesimo abbiamo tutto ciò che concerna la vita di unione con Dio, lo Spirito Santo, la configurazione a Cristo, morte e risorto, la inabitazione alla Trinità.